Una paga di 4 euro l'ora e turni massacranti in campagna. E' questo il trattamento riservato a un gruppo di braccianti extracomunitari a Caltanissetta da parte dei datori di lavoro. Uno sfruttamento vero e proprio, che ha portato i poliziotti della Dicos all'esecuzione di 10 misure cautelari, 2 in carcere e 8 domiciliari, per 6 stranieri e 4 italiani, accusati di appartenere a un'organizzazione criminale con lo scopo di reclutare mano d'opera extracomunitaria prevalentemente di origine marocchina. Secondo l'accusa, questi imprenditori o proprietari terrieri avrebbero fatto lavorare gli operai in condizioni lesive della degnità, della sicurezza e della salute, facendo leva sul loro stato di bisogno. Giornate lavorative di 8-9 ore per un salario quotidiano di 30-35 euro, abbassato di 5-10 euro per le tasse giornaliere, ovvero spese per il trasporto dei lavoratori e la manutenzione dei mezzi. Nessun dispositivo di protezione individuale, costanti minacce e nessuna possibilità di lasciare l'impiego per malesseri o importanti necessità familiari.